Immancabile weekly del sabato mattina con titolo un po' peperino perché oggi voglio chiacchierare un po' Ma prima andiamo con ordine, settimana pienissima, settimana pienissima C'è stato letteralmente di tutto, dal Playstation VR 2, lo State of Play, sta uscendo l'impossibile, Atomic Heart, Octopath, Kerbal Space Program 2 Non so più quante cose ho fatto stasettimana, ma tant'è che credo di avere un po' di occhiaie in più del solito Io che già ne ho poche di occhiaie, perché è stata la settimana in cui è stato prete obbligatorio dormire tipo 4 o 5 ore a notte Perché non ce se faceva Ma settimana in cui sono... rispetto alla settimana scorsa in cui ero un po' fiacchetto, un po' tristito da cose extra lavorative Poi di fondo Stasettimana molto più allegro, molto più tranquillo, molto più felice Al netto di... ripeto, dei ritmi stasettimana Surreali che continueranno, credo, per un'altra settimanella abbondante Perché ci sono tante cose da fare Per partire un grazie, doveroso, necessario Perché è stata una bella settimana in cui avete veramente mostrato l'enorme supporto a quello che facciamo Partendo dalla PlayStation VR, che è quello che gioco forza, ci ha preso più tempo Per arrivare appunto ai Sapevatelo, contenuti vari Siete stati super presenti, super propositivi Grazie Perché voi non avete idea... so che sembrano frasi fatte, ma vi assicuro che non è così Quando ci si trova a dover fare tanto, sentire il supporto, sentire la partecipazione Sentire la voglia di godere del lavoro che qualcuno fa è una cosa inestimabile Per cui grazie, perché in momenti di stanchezza ci avete dato tanto brio E vi assicuro che è una cosa molto bella Così come grazie che faccio anche a nome di Elisa, insomma, anche se poi avrà modo di farlo direttamente Per il supporto dato anche a lei È stata la settimana in cui forse è stata introdotta in maniera definitiva e chiara Rispetto anche a contenuti più seri, che non siano solamente le minchiate che facciamo insieme da sempre E mi ha fatto un sacco piacere Mi ha fatto un sacco piacere che lei si sia finalmente resa conto Di qualcosa che io ho sempre saputo, cioè di riuscire anche a essere presente in momenti più seri E sono stato felicissimo che abbiate apprezzato Voi in primis che l'abbiate sottolineato, che abbiate avuto voglia di farlo presente anche a lei Perché era importante Per cui grazie Perché ripeto, io ho sempre pensato che prima o poi sarebbe stato il momento in cui Elisa sarebbe stata presente Anche in contenuti un po' più elaborati Non era magari pronta all'inizio proprio, ma adesso lo è Quindi insomma, sarà un piacere averla al mio fianco, oltre che nella vita, anche nel lavoro davanti alla telecamera Perché come ben sapete, dietro c'è sempre stata, c'è sempre Ma davanti alla telecamera magari era un po' in disparto, un po' ai margini E adesso lo sarà sempre meno Anche perché appunto, vedere che avete apprezzato mi ha fatto un sacco piacere E incoraggiato e incoraggiata a farlo più spesso Per cui un grazie anche da quel punto di vista Subentriamo, introduciamo lentamente Questa settimana con la molle di roba che c'è stata È stata, è stato lo spunto per due cose che mi hanno fatto un sacco sorridere Allora, il stai facendo troppe cose In realtà io ne so, cioè Numericamente ne sto facendo meno Rispetto a quello che succedeva qualche anno fa Qualche anno fa io lavoravo senza soluzioni di continuità Senza pause, senza momenti morti Al punto che venivano pubblicati 4-5 video al giorno Chi mi segue da un po' lo sa Che i ritmi prima erano molto peggiori da adesso Io adesso sto lavorando, se vogliamo, quantitativamente In termini di numero di prodotti molto meno Magari le ore sono sempre quelle Ma le gestisco diversamente E soprattutto vi dico Io non credo che noi lavoriamo troppo Onestamente Credo che lavoriamo il giusto Cioè Magari sì Un po' più di quello che è solito fare un lavoratore medio Ok Ma Partendo dal presupposto che le ore lavorative di un cristiano sono 8 Noi vabbè Magari ne lavoriamo 2-3 in più A volte anche 4 al giorno Ma fa parte della vita lavorativa di una persona della mia età Cioè Se hai 35 anni Avendo un lavoro Non lavori Dando tutto te stesso Che lavori a fa? Anche perché poi Come ben sapete Io sono uno che Vuole realizzare determinate cose A livello familiare A livello personale Per cui Ci tengo a poter fare Ma vi posso assicurare che io sto facendo Quello che Sono in grado di gestire Non credo di andare oltre Le mie possibilità attuali Cioè Sono soddisfatto del livello che abbiamo raggiunto E Sto procedendo lungo quella linea Cioè Il problema magari È che Si tende a credere che la norma sia al fare molto meno Io credo che non facciamo niente di speciale Facciamo semplicemente Quello che va fatto Ecco Ma non E E questo mi porta anche a un altro discorso Che si è legato Ah perché Fai troppo E dunque Stai diventando Troppo cattivo Allora questa settimana Io sono Passato Dall'essere Boxaro Sonaro PCista Nintendaro Tipo 20 volte Non so Non so più chi sono Ma Ma la cosa particolare è stata appunto Stai diventando troppo cattivo Perché Per quanto riguarda il PSVR 2 Eh però Metti in luce troppi Troppi difetti Eh Per non parlare poi di Atomic Heart Che ha aperto un po' il vaso di Pandora Sul Ah La Non si capisce perché tu sia così cattivo Sul gioco Addirittura alcuni alludendo al fatto che È una questione politica Ragazzi Volevo attimino Chiedere un paio di punti Due Ma giusto per Per rasserenare Quei pochi Che magari potrebbero aver In qualche modo Eh Travisato Alcune cose Allora Pettiamo da parte la questione politica Vi prego Vi prego Io sul mio lavoro Non porto nulla Che abbia a che fare con la politica Niente Eh È È valso per Hogwarts Legacy Eh E vale assolutamente per Atomic Heart Dove ho ribadito Anche in fase di prelancio Più volte Quanto io fossi Distantissimo Dall'idea di boicottaggio E danni del prodotto Perché fino a prova contraria Gli sviluppatori Sono assolutamente innocenti Io non faccio processi Delle intenzioni Non Eh Dichiaro colpevoli Persone In assenza di Fatti evidenti Per cui Per cortesia Non mi mettete in bocca Sta roba Perché proprio Non mi appartiene come Forma mentis Io sono qui per parlare Di videogiochi Valuto quelli Il resto Lo metto da parte Ma riguarda Atomic Heart Mi ha fatto sorridere Che alcune persone Poche per fortuna Eh Abbiano accolto Un parere Che magari Non corrisponde A quello Super Hyppato Di molti Un po' Un po' Critico Nella maniera Più Più Letterale Del termine Che ho criticato Alcune cose Come un insulto A mamma e sorella Regà Ma io Cioè Io capisco Che in certi momenti Ci possa essere Magari un po' Di difficoltà A scindere Fra Il gusto personale E magari Alcuni aspetti Un po' più controversi Che potrebbero portare A dire Ma Il fatto di riconoscere Magari dei difetti In un prodotto Non vuol dire Che sia brutto Non vuol dire Che sia indegno Di attenzione O immeritevole Del vostro amore O interesse Cioè Regà Io Negli anni Qualcuno forse se lo ricorda Ho adorato Un prodotto vecchissimo Che si chiamava Zombier Una Una Non voglio usare Termini sgaioli Ma un titolo Diciamo Poco a fuoco Ecco Abbastanza grezzo Ok Molto grezzo E Io l'ho adorato Alla follia E non ho mai pensato Però di difenderlo Come se fosse Un capolavoro Ora Atomicard Non è una zozzeria Minimamente Mai detto Cioè Io In questa fase Sono orientato Su voti Che superano Ampiamente La sufficienza Ok Però Ho ritenuto Opportuni In quel sapevatelo Mettere luce Alcuni aspetti Che secondo me Sono abbastanza evidenti Secondo me Ma che prescindono Dall'amore Che uno può provare O meno Per il prodotto Per il piacere Che può provare Nel finirlo Ma Io non sono Qui a far pubblicità Ragazzi Io Io non faccio Pubblicità I prodotti Io Se Se io venissi qua A dire solamente Quanto è bello qualcosa La mia utilità Pratica Sarebbe Zero Per voi Sarebbe utilissima All'industria Ma sarebbe Zero Per voi Dunque Se io mi trovo Con PSVR 2 A dover mettere in luce Certi aspetti Tipo La motion sickness Che anche lì Ha scatenato Le ire di molti Perché sembrava Che io volessi In qualche modo Boicottare il visore Parlando di Io cerco di fare Nel mio piccolissimo Spero di riuscirci Di offrire Un servizio A chi mi dedica Qualche minutino Ogni tanto E lo faccio Nella maniera Più utile possibile Per chi mi ascolta Quella che io reputo Chiaramente La maniera più utile Per chi mi ascolta Ma io non ho interesse Nel spingere O affossare Dei prodotti Sulla base Del gusto personale Io non metto Il mio gusto personale Come discriminante Rispetto a qualcosa Di cui parlo Perché credo Che sarebbe Estremamente Deleterio Per la mia immagine E per il lavoro Che svolgo Per cui PlayStation VR 2 Io ne ho parlato Credo Nella maniera Più trasparente Possibile Sulla base Della mia competenza Specifica Sull'argomento Io e Lisa E sono convinto Di aver fatto Il massimo Che fosse possibile Fare Al netto Delle nostre Competenze Specifiche E credo Di essere Abbastanza Soddisfatto Di quello Che ho fatto Su Atomic Art Stesso discorso Prodotto Che in questo momento Stava ricevendo Tantissima Tantissimo hype Ho ritenuto Opportuni In quel momento Nell'interesse Della mia community Soffermarmi Più sugli aspetti Controversi Che sui pregi Visto che in giro Si parla solo Di pregi E tendenzialmente Si parlava poco Di alcuni aspetti Che non lo rendono Un capolavoro Assoluto Un buon prodotto Ma Cioè le cose belle Le vedete da voi Anche le cose brutte Ma in alcuni momenti Forse Quando è l'euforia Regnare sovrana Credo sia più importante Magari soffermarsi Sulle cose Che potreste Non notare In preda All'entusiasmo Quindi le faccio presenti Perché Sapete cos'è Io C'è una cosa Che a me Che dici Ma che te frega A me dispiace È capitato poche volte Per fortuna Ma quando capita Che qualcuno viene da me E mi dice Ah Avevo sentito Il tuo video Sul gioco X o Y Ho comprato il gioco E mi ha fatto schifo O non avevi detto Che c'è sto problema Io in quei casi Ci sto un po' male Perché Ci tengo In qualche modo A rappresentare Una fonte di spunti Cioè L'obiettivo del canale È sempre stato quello Di condurvi ad acquisti Un po' più consapevoli Non a dirvi Quello che vi dovete O non vi dovete comprare Non leggerete mai Compratelo O non compratelo Perché non fa parte di me Non è Sarebbe Volersi mettere Su un pulpito Che non mi appartiene È semplicemente Un dare dei consigli Sulla base della mia competenza Poi se sono consigli utili Me lo auguro Se sono consigli sgraditi Io non ce posso Fa niente Però ragazzi Io non posso Cavalcare l'entusiasmo Sulla base Dell'atmosfera generale Per ottenere consenso Tutti dicono Che è bello La dico che è bello Non vediamo i difetti È tutto bellissimo No ragazzi Io non sarò mai così Posso capire Che non si sia d'accordo E con tanti ragazzi Abbiamo chiacchierato Di Atomic Art Abbiamo chiacchierato Di Motion Secrets Abbiamo chiacchierato Di tante cose E lo facciamo regolarmente Però Bisogna comprendere Che io non sono qui A fare pubblicità E le scelte Che ho fatto di recente Sono in continuità Con questo mio Modo di fare Quindi Ci tenevo però A dirlo Perché Perché se no Torniamo ai vecchi fasti Che me le sono ricordati Questa settimana Di Anthem Di Fallout 76 Dove io criticavo I prodotti all'inizio Mettendo in luce Certe criticità E le minacce Gli insulti E cose Non siamo arrivati A quei picchi Con Atomic Art Però qualche ban È dovuto partire E io sapete bene Che odio bannare Perché mi piace il dialogo Avrò fatto 30 ban Da quando sono su YouTube Però È sgradevole Doverli fare Per cui Partiamo dal presupposto Che si può pensare qualcosa Anche Cioè Se a me Domani viene qualcuno A dirmi Ah la tua fidanzata È brutta Non è che la lascio Quindi Se io dico Che un prodotto Ha dei difetti Codetevo lo stesso Ecco Quello è un po' Il concetto Comunque Chiusa parentesi Ma Credevo fosse Ogni tanto Credo sia importante Tornare su certi Argomenti Su certi temi Per ricordare Un po' La filosofia Alla base del canale Ok Comunque Settimana prossima Settimana prossima Allora Ho dovuto Posticipare un paio di cosine Che avevo in mente Di fare questa settimana Tipo il video Sul Game Pass Che non c'è stato tempo Troppe cose Troppi Troppi argomenti Da trattare Lo State of Play Ce ne ha regalati altri Tante cose Avrei voluto fare Non ho fatto Perché non c'è spazio Non me posso bombardare Con 50 video al giorno Se no il feed Già Già bello intasato Lo roviniamo completamente Però appunto Settimana ricca Di cose Da fare Arriveranno un paio Di contenuti Veramente molto carini Saremo più presenti In live Voglio fare un bel po' Di cose Voglio riprendere un po' Il ritmo Anche con le dirette Un po' più stabili E quindi insomma Preparatevi Perché sarà Una bella settimana Pure quella che arriva E Per chi chiedeva Il discorso Del Playstation VR 2 Allora Chiaramente Non si chiude qui Il discorso Il coverage Giornaliero È finito Ma di volta in volta Vorrei rimanere Aggrappato a questo A questo mondo Per continuare a parlarne E per iniziare a costruirmi Anche Un Delle fondamenta Critiche Se vogliamo Pure sul discorso VR Io ripeto Mi sono approcciato A questo visore In maniera estremamente Umile Perché Se in ambito Di gaming Tradizionale Io gioco qualcosa Come Proverò 400 giochi L'anno Da quando lavoro Finiti Chiaramente Non 400 L'anno Però Diciamo che Quando si tratta Di videogiochi convenzionali Ho un bagaglio Piuttosto ricco Quando si tratta Di VR No È il motivo per cui Non abbiamo fatto Recensioni Con voto Sulla realtà virtuale Perché non ne avremmo avuto Le competenze Abbiamo preferito Continuare a parlarvi Dei prodotti In maniera estremamente Spontanea Ma senza Addentrarci troppo In analisi critiche Su una tecnologia Che non conosciamo abbastanza Continueremo a farlo Così Fin quando Non riterremo opportuno E riterremo Di avere Le giuste competenze Per poter esprimere Anche delle analisi critiche Per la realtà virtuale Però continueremo a parlarne Per cui capiteranno Prodotti Ne parleremo Li mostreremo Quando cambieremo casa Potremmo anche fare Dei gameplay veri e propri In realtà virtuale Che qui purtroppo Ci sono stati impossibili Perché Lo sapete Quali sono i problemi Ma Ma Le cose si stanno Evolvendo Se Dio vuole Tra qualche settimana Abbiamo Abbiamo chiuso Il discorso Poi Toccherà iniziare Tutto Il traslogo Le cose I lavori Ci avrà un po' Però Se Dio vuole Le tre di quest'anno Ce lo facciamo in live Se Dio vuole Se Dio vuole Perché Quello che stiamo preparando Lo permetterebbe Vediamo se la fortuna Ci assiste Perché sarebbe Sarebbe bello Sarebbe molto Molto bello Però appunto Vi posso dire Visto che tanti Lo chiedete Grazie Anche lì Per l'interessamento Le cose si stanno muovendo Purtroppo Il catastro Non è mio amico In questo momento Ma Diciamo che la casa È bloccata Ecco dai Possiamo dire così Presa Cioè Presa nelle Gentlemen's agreement Stretta di mano E presa Tocca fa tutto il resto Non appena sarà possibile Però C'è Adesso c'è Ecco Quindi Ed è come la volevamo noi Quindi Ci potremmo fare Tutto quello che volevamo fare Ci dovremmo spendere Dentro L'idea di Dio Per i mobili Perché E poi è un po' È un po' È un po' È una bella casa Devo dire Devo dire che sono contento Elisa è scontentissima Ma lo sono anch'io Onestamente Perché Potremmo realizzare Quello che abbiamo sempre voluto realizzare In uno spazio del genere C'è spazio C'è spazio per la realtà virtuale C'è spazio per gli unboxing C'è spazio per tutto quello Che avete sempre sognato E che non vi abbiamo mai potuto dare No A parte scherzi C'è tempo C'è spazio anche per fare cose di notte Insomma Perché Si sviluppa In aree diverse Per cui ci sarà modo Di fare anche le cose notturne Di essere più presenti in live Insomma Poi ne parleremo bene quando sarà Ve la farò vedere Insomma Faremo Mi darete anche dei consigli Magari per organizzare certe cose Insomma Tante cose da fare Tante cose da fare E Contento Ho ripreso pure la macchina Incredibile Dopo tre settimane di attesa L'ho riavuta E E' costata anche meno Di quello che avrei immaginato Per fortuna C'ho un ottimo meccanico Ogni tanto La fortuna Nella sfortuna E per chi lo chiedeva Abbiamo risolto anche La questione di Falco Ci sarebbe da dire tanto Ma magari ve ne parlo In un'altra occasione Anche perché oggi Mi sono dilungato un botto Pure però Uno dei weekly più lunghi Di sempre Vabbè E' perché Siamo finiti in mani sbagliate Con Falco E mi hanno fottuto Quasi mille euro Con diagnosi finte E' vabbè Stendiamo un vero pietoso Ragazzi Un abbraccio Un buon weekend Noi ci vediamo sabato prossimo Sempre dieci Nel prossimo weekly E passate un bel fine settimana Noi ci vediamo